Vi cacate tutti nella mutanda per la guerra tra Nato e Russia? Aspettate di assistere a quella tra Nato e Cina. Questa signora con questa specie di topo morto in testa si chiama Lidstrass. L'hanno fatta in tanti modelli. C'è Lidstrass ferroviere, Lidstrass ciclista, eppure motociclista. Poi c'è anche Lidstrass pilota, eppure Lidstrass parte per il fronte. E sì, è la premier britannica. Così improbabile che quando si fece per la prima volta il suo nome come successore di Boris Parrucchino Johnson ci ha anche scommesso contro 10 euro, le famose previsioni del Marrucci. E che nonostante tutto continuò ad avere un'immotivata fiducia nel genere umano. Che Lidstrass non fosse una buona scelta, lei ci ha tenuto a dimostrarlo subitissimamente. Ha fatto una riforma fiscale che levava quattrini dalle casse dello Stato per metterle in tasca al 2% più ricco della Gran Bretagna. Una roba talmente assurda che è stata punita anche da quello stesso 2%. Nel giro di pochi giorni, sterlina ai minimi storici, borse nel panico, alla fine, dopo nemmeno una settimana, le è toccato ritirarla. Un grande esordio. Che però non è servito da lezione. E ora ci vuole ribadire. Questa volta essere preso di mila sarebbe un paese col quale la Gran Bretagna ha interscambi commerciali per poco meno di 200 miliardi di sterline l'anno. La Cina, che la Trust ha annunciato voler degradare ufficialmente, da competitore sistemico, a minaccia. Ci teneva ad essere la prima della classe. Ma quando si tratta di buttarla fuori dal vaso, Sleepy Joe non vuole competitor e l'ha bruciata sul tempo. E così mercoledì, dopo mesi di attesa, l'amministrazione USA ha rilasciato finalmente l'aggiornamento della National Security Strategy. Secondo Biden, in giro per il mondo, il bisogno di una leadership americana è più sentito che mai. E la mia amministrazione ha le idee chiare sulla natura delle sfide che ci attendono. Ovviamente a partire dalla Cina, che come tutti i regimi autocratici, lavora per indebolire la democrazia ed esportare un modello di governance caratterizzato dalla repressione in casa e dalla coercizione all'esterno. Certo, la Russia con la sua aggressione all'Ucraina pone una minaccia immediata, ma il vero grande nemico sistemico è lei, la Cina, l'unico paese che ha davvero l'intenzione e sempre di più anche la capacità di trasformare l'ordine internazionale a suo beneficio. Però tranquilli, era sicura, non cerchiamo uno scontro tra blocchi, si fa così per parlare. La reazione dei cinesi suona un po' tipo ok boomer. Non è né popolare né costruttivo continuare ad attenersi a questa mentalità da guerra fredda e fare leva sui conflitti geopolitici e la competizione tra grandi potenze. Cina e USA sono due grandi potenze e devono trovare il modo di convivere, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri. Nel documento Biden dichiara di non volere una nuova guerra fredda, però vuole cementare un'alleanza per competere con la Cina, in modo costruttivo ovviamente, ad esempio limitando il suo sviluppo nei settori ad alta tecnologia. È la famosa guerra dei microchip, che nelle ultime settimane ha subito un'accelerazione drastica. L'apice è stato toccato venerdì scorso, quando quasi di nascosto il Bureau of Industry and Security, un'agenzia governativa USA tanto ignota al grande pubblico quanto potente, ha imposto nuovi stringenti limiti all'esportazione verso la Cina di semiconduttori, dei macchinari necessari per costruirli, eppure di ogni forma di relativa componentistica e anche di know-how. Una vittoria dei falchi. La dimostrazione che, come scrive Foreign Policy, lo sviluppo tecnologico della Cina sarà rallentato con ogni mezzo necessario. È la nuova tappa di un processo che va avanti da anni, ed ha un po' i contorni di una spy story. Fino ad oggi lo strumento più utilizzato era stata la famigerata Entity List, la lista delle aziende cinesi che non possono importare dagli USA neanche uno spillo senza apposita licenza. Nel 2018 erano 130, oggi sono quasi 550, sostanzialmente tutte quelle che a vario titolo partecipano alla complessa catena della produzione di microchip. Per molte di queste le limitazioni non riguardano solo gli Stati Uniti, ma qualsiasi azienda in qualsiasi parte del mondo utilizza in qualche modo, anche solo marginalmente, tecnologie statunitense. Vale a dire sostanzialmente tutte. Il bersaglio per eccellenza di queste politiche è stata Huawei, il colosso dell'hightech che fino a pochi anni fa sembrava inesorabilmente destinato a diventare leader globale assoluto delle infrastrutture per le telecomunicazioni. Non sia mai, ci mancherebbe. Da un paio di anni Huawei sta cercando in ogni modo di aggirare l'ostacolo. A novembre 2020 aveva venduto tutte le sue azioni della controllata Honor, noto marchio di smartphone e altre device elettroniche. Sganciata da Huawei avrebbe potuto continuare a importare chip con dentro tecnologia made in USA. Ad acquistare le azioni era stato lo Shenzhen Smart City Technology Group, una società del governo municipale della città di Shenzhen. La stessa municipalità che, attraverso un altro fondo, poco dopo, ha fondato un'altra start-up con a capo un ex dirigente di Huawei e che si occupa della produzione di chip, la Shenzhen Pengxin Micro Integrated Circuit Manufacturing. La Pengxin, proprio in questi giorni, era in attesa di un macchinario che le avrebbe permesso di produrre chip di ultima generazione. Fino a quando, giovedì scorso, Bloomberg pubblica un articolo molto dettagliato, dove ipotizza che si tratti di una partita di giro architettata dalla stessa Huawei per aggirare le restrizioni. Passano poche ore ed ecco che Reuters pubblica un altro articolo che annuncia un imminente provvedimento da parte USA volto ad impedire ai cinesi di sfruttare tecnologie a USA. E il giorno dopo arriva il provvedimento del Bureau of Industry and Security. E poi ditemi che questa non è una tipica spy story da piena guerra fredda. Comunque, il provvedimento sostanzialmente estende il trattamento riservato fino a ora a Huawei a praticamente tutta la Cina. Una botta gigantesca in particolare a tutti i settori che impiegano massicciamente l'intelligenza artificiale su cui la Cina comincia a primeggiare. Dall'e-commerce ai veicoli a guida autonoma, dalla cyber security alla diagnostica medica per immagini fino anche alla modellistica impiegata nello studio del clima. E come traduce tutto questo Giulia Pompili sul foglio? La Cina si sta richiudendo su se stessa. Sentenzia. Ma a parte i crociari contro la sanguinaria dittatura cinese, questa escalation nella guerra tecnologica potrebbe scontentare in tanti. La Cina, infatti, è il primo acquirente di chip al mondo, il 36,5% del mercato globale, quasi 200 miliardi di dollari l'anno, dei quali ad oggi solo il 7% è prodotto in casa da aziende cinesi. Difficile rinunciarci. Soltanto Onvidia, che è uno dei leader globali, soprattutto per quanto riguarda i chip più sofisticati di ultimissima generazione, ha calcolato che questo giochetto le ha costato oltre 400 milioni di mancati introiti soltanto nel terzo trimestre del 2022. Una botta che potrebbe intaccare pesantemente anche la capacità di innovazione delle stesse aziende USA, che con ogni probabilità saranno costrette a diminuire in modo sostanzioso ricerca e sviluppo per assorbire il calo di fatturato. La Semiconductor Industry Association, che rappresenta oltre due terzi delle aziende del settore, ha chiesto espressamente che le restrizioni vengano applicate soltanto in casi molto specifici circoscritti, ad esempio quando è direttamente coinvolta l'industria militare. Un conflitto che potrebbe costare anche in termini geopolitici. Una buona fetta delle grandi fonderie di chip, infatti, si trovano nei tre più fedeli alleati degli USA nell'Indo-Pacifico, in particolare a Taiwan, ma anche in Corea del Sud e in Giappone, che non sembrano averla presa benissimo. Gli USA hanno provato a metterli tutti insieme in un'alleanza ribattezzata CHIP-4, ma a un anno abbondante dal battesimo, tutti e tre i partner non sono riusciti ancora a buttare giù un piano, nemmeno per un incontro preliminare. Giapponesi e coreani si guardano in cagnesco. La coreana Samsung ha pubblicamente espresso le sue perplessità sull'iniziativa, e tutti temono gli USA possano usare questa alleanza per avvantaggiare le sue aziende domestiche, a partire da Intel. Anche perché, a parte il Giappone, Corea e Taiwan sono legate a doppio filo alla Cina, non solo perché è di gran lunga il loro mercato principale, ma anche perché dalla Cina importano la stragrande maggioranza delle materie prime utilizzate nella produzione degli stessi chip. E in tutto questo, la Cina nel frattempo ha finalmente deciso di fare ogni sforzo possibile e immaginabile per costruirsi una filiera tutta sua. Una sfida bella tosta, ma alle sfide toste i cinesi diciamo che ci sono abbastanza abituati. E secondo molti analisti, stanno decisamente bruciando le tappe. La Cyndian Computing Technology ha da poco annunciato nuovi dispositivi che possono sostituire le memorie che Nvidia e AMD non sono più autorizzate a esportare. Non si tratta certo della stessa cosa, ma sembrerebbero funzionare. La SMEE sta sviluppando un macchinario che potrebbe sostituire i sofisticati macchinari dell'olandese ASML nella produzione dei chip di ultimissima generazione. E la Amec ha addirittura venduto, cosa assolutamente impensabile fino a nemmeno un anno fa, macchinari per la produzione di chip a Samsung, Intel e Micron. Come scrive Asia Times, a un certo punto, nella seconda metà di questo decennio, sapremo se il tentativo degli USA di soffocare l'industria dei semiconduttori cinesi ha avuto successo o è fallita. Il fallimento sembra piuttosto verosimile e il costo per l'America e le sue società sarà verosimilmente incredibilmente alto. E a non essere molto convinti che la strategia USA di scontro diretto con la Cina sia l'opzione migliore sul tavolo, potrebbero non essere soltanto le aziende del settore e gli alleati dell'Indo-Pacifico. Martedì 11 ottobre, a Berlino, si tiene il tredicesimo summit dell'industria meccanica tedesca. Le imprese del settore sono in allarme, la domanda di macchinari industriali infatti in Germania è in netto calo e loro temono l'inizio di un processo di deindustrializzazione. Sul palco sale il cancelliere Olaf Scholz. Si parla di decoupling, disaccoppiamento, è quello che vogliano gli USA, il mondo libero da un lato, i barbari dall'altro. E dentro al mondo libero, tra leadership tecnologica, potenza militare, dittatura del dollaro e energia a un quarto del prezzo che la paghiamo noi in Europa da quando abbiamo interrotto le relazioni con la Russia, loro che se la comandano. Per tutta l'Europa, e in particolare per la Germania, un vero e proprio suicidio. E secondo Scholz, il momento delle tentazioni suicide andrebbe superato. Il disaccoppiamento sarebbe una strada completamente sbagliata, ha sentenziato. E non è stato il solo. A rincarare la dose, il commissario europeo al commercio, Valdis Dombrovskis, il decapling dalla Cina, per la UE, non è un'opzione. E non sono solo chiacchiere. Il commercio bilaterale tra Cina ed Unione Europea, nel 2021, ha raggiunto la cifra esorbitante di 800 miliardi di dollari. E nei primi 8 mesi del 2022, ha già raggiunto quota 575 miliardi, che significa un bel più 9%. Gli investimenti diretti dall'UE alla Cina sono aumentati addirittura del 120%, raggiungendo quota 7,5 miliardi. Certo, va fatta la tara col sostanziale blocco dovuto al covid, ma il rimbalzo è comunque enorme. E tutto questo mentre i mal di pancia contro gli USA si fanno sempre più evidenti. L'ha affermato pubblicamente, in modo inusualmente chiaro lunedì scorso, e il ministro dell'economia e delle finanze francese Bruno Lamer. Il conflitto in Ucraina si è soldato per una dominazione economica americana e un affaiblimento europeo. Non possiamo accettare che il nostro partner americano vendi il suo GNL quattro volte il prezzo al quale vende il suo industrie. Dombrovskis ha rincarato la dose ricordando come gli incentivi green introdotti nell'USA dall'Inflation Reduction Hub sono discriminatori nei confronti delle industrie europee dell'automotive, delle rinnovabili e delle batterie. Mentre nei confronti della Cina, l'Unione Europea dovrebbe relazionarsi con pragmatismo. Musica per le orecchie cinesi dove, come scrive il Global Times, si insiste a parlare di politiche di apertura e dove si promuove attivamente la globalizzazione. È quel processo storico che consiste nell'integrazione del supercontinente euroasiatico che torna a farsi sentire e comincia finalmente a ostacolare il piano che gli USA provano a mettere in atto approfittando del caos ucraino che in buona parte hanno contribuito a scatenare, interrompere l'integrazione euroasiatica, isolare l'Occidente dal resto del mondo e cannibalizzare le economie degli alleati grazie allo strapotere del dollaro, alla guerra dei tassi di interesse scatenata dalla Fed e ai vantaggi sul fronte energetico. Secondo Bloomberg, a novembre, Scholz andrà in Cina alla testa di una nutrita delegazione di imprenditori e alcuni sostengono si porterà presso pure Macron. Non ci facciamo illusioni, sono solo i primi timidi segnali di una presa di coscienza da parte europea. Ma i processi storici hanno la testa dura e non leggono i documenti ufficiali delle amministrazioni USA. Però, però, c'è un ostacolo enorme, la nuova Europa. Quella che si ispira al modello polacco, una specie di laboratorio del fascismo del XXI secolo, fatto di sudditanza strutturale alle ambizioni egemoniche a stelle e strisce, di partecipazione entusiasta ad ogni forma di avventura bellica contro il mondo nuovo e di ricerca ossessiva di un capro espiatorio su cui scaricare le responsabilità di tutti i propri inevitabili fallimenti, dalle donne che decidono di abortire, agli immigrati, passando per la comunità LGBTQ eppure per gli ambientalisti. Una nuova Europa che ieri ha trovato un nuovo fedele alleato, la Repubblica Italiana, che finalmente ha rieletto un altro ex fascista alla presidenza di uno dei due rami del Parlamento. Poco male, comunque, rispetto all'aspirante zia di Rubi Rubacuori, Maria Elisabetta Alberti Casellati, tutto sommato un sostanziale spostamento a sinistra. E infatti, ai fascisti del secolo scorso, il discorso di insediamento di la russa non è piaciuto per niente. A non andare giù agli ex camerati è stato il ricordo che ha dedicato a Sergio Ramelli, il giovane militante del fronte della gioventù assassinato in un agguato a soli 19 anni a Milano nell'ormai lontano 1975. Caro Presidente, scrivono ad esempio sulla pagina Facebook della sezione toscana della fiamma tricolore, non ne ha il diritto. I nostri caduti hanno dato la vita per i nostri valori, gli stessi che lei ha rinnegato nel 1995 a Fiuggi e che ha rinnegato ogni volta che ha votato a favore dell'invio delle armi in Ucraina, che ci rendono sempre più sottomessi al capitalismo atlantico e proni agli USA. Quando sembrano più lucide le parole di un fascista rispetto a quelle del 90% delle forze parlamentari, direi che c'è un problemino. Contro i nuovi fascismi, a noi non ci resta che organizzare una nuova resistenza e un nuovo media. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e chi non aderisce è nipote di Mubarak. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. A presto!